Musica Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo Unboxing Infatti in questa puntata andremo a fare l'unboxing del display 16x2 con interfaccia classica e non quella i2c della Tuttoameno Shop, è un nuovo negozio che ha aperto nel 2014-2015 e vende prodotti di Arduino Questo display costa 3€ più 2€ di spedizioni, quindi veramente poco, il prezzo più basso di Bay Però il metodo di spedizione secondo me è da migliorare e non di poco Perché essendo che adesso non so chi è che ha fatto confusione se venditore oppure Nexiv Perché non è spedito con posti italiani ma con Nexiv A 1 risultava, cioè il venditore risultava che era stato spedito il 26x2 Mentre la Nexiv risultava che era stato spedito l'1 Quindi non so chi è che ha mentito però vabbè finalmente è arrivato Anche se oggi è l'8 dopo circa una settimana è arrivato Una settimana e mezza anche perché in teoria era stato spedito il 26x2 Vabbè non facciamo confusione Comunque finalmente comunque ci è arrivato Ora il pacco è arrivato ben sigillato e anche rinforzato Ecco la mega pubblicità tutto almeno shop E siamo pronti per unboxare il nostro pacco Quindi andando ad aprire il nostro pacchetto con dentro il nostro display Il nostro display si trova dentro questo pacchetto che è veramente molto semplice Com'è un imballaggio ma molto efficace Andiamo a tagliare i vari lati Ok eccolo qui, perfetto Il display come vedete è di color verde Non l'abbiamo più preso color blu anche perché ne abbiamo già due E questo display ha come vedete interfaccia classica Quindi è un ottimo modo per tutti i progetti di arduino senza interfaccia i2c In poche parole se volete fare copia e incolla dai progetti che ci sono su internet Essendo che ci sono ancora tutti quelli vecchi con questo tipo di pin È veramente molto utile E poi come seconda cosa non avevo un display di color verde E volevo togliermi sto sfizio di vedere com'era Comunque come vedete il display è molto semplice Anche l'imballaggio è molto semplice Però alla fine c'è arrivato Perfetto, allora ragazzi Questo era l'unboxing del display classico della Tuttoameno Shop Color verde Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video E ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo Ciao ciao Ciao